amici giallorossi di tutto il mondo e l'universo buongiorno a tutti oggi è buongiorno benvenuti a questo nuovo pov oggi ovviamente ci sono altri due nomi di calciomercato quindi altri due tre nomi di calciomercato ovviamente non concreti sono idee che allungano la lista infinita della roma da quando ha fischiato l'arbitro a empoli in poi ma c'è una polemica che impazza in città di cui oggi parleremo perché non abbiamo parlato in questi giorni abbiamo dato precedenza no alla nazionale a sarà ieri alle fe ci sono ci sono anche logicamente novità sulle fe oggi parleremo della polemica sul merchandising deciso da adidas e roma presumo anche se quello che esce fuori fa fa sembrare che abbia deciso un designer dell'adidas che vive molto probabilmente in lapponia non sa neanche che è il pallone quindi oggi parleremo inizieremo il nostro discorso con questo ma prima di farlo vi ricordo iscrivetevi al canale sfondate il tasto del like attivate la campanella per non perdervi nessun video e nessuna live sul mio canale e poi condividete con gli amici commentate ditemi cosa ne pensate di quello che vi dirò oggi di quello che il mio pensiero sugli argomenti di oggi allora iniziamo col merchandising sintetizziamolo così sono uscite lunedì subito quindi a una settimana dal ritiro la roma insomma ha caricato sullo store il nuovo il nuovo equipaggiamento d'allenamento no le maglie so bianche giallo strano che riprendono molto la seconda che ieri ieri è stata no ufficializzata tra virgolette nel senso è stata fotografata la seconda maglia ufficiale della roma in uno store adidas australiano quindi in australia già è in vendita già è esposta ricordiamo proprio insomma no la tournée della roma a fine campionato in australia e che sicuramente era anche commerciale al di là che è stata sono state pagate roma milan per andare lì e perché sappiamo come funzionano questa amichevoli internazionali era ovviamente anche uno scopo commerciale per portare i due brand i due brand lì e quindi in australia già è uscita e qualcuno la ma logicamente con i mezzi di oggi l'ha fatta l'ha fatta arrivare a roma a roma che dovrà essere presentata si si pensa dal 18 luglio in poi se non sbaglio queste sono le date che che circolano poi verrà presentata la prima logicamente verranno presentate a step ormai una volta si presentavano a tricoria in conferenza stampa ormai sapete vengono annunciate sui social con reels shorts rants e fans quindi verranno ufficializzate nei prossimi nei prossimi giorni nella prossima decina di giorni insomma lunedì vedremo subito i giocatori con le nuove divise allenamento che non sono acce quelle nuove sono mi pare so bianche insomma io poi ho dato un'occhiata proprio rapida mi sono più concentrato su sta polemica della verpa no e di cui non volevo parlare però non ne devo parlare perché è una polemica infinita perché ieri è arrivata una risposta da adidas tutti sapete come è fatta sta verpa gialla rossa a un certo punto sulla pancia c'è un inserto che a tutti sembra celeste in foto l'adidas sostiene che è verde acqua perché perché è verde acqua perché è un omaggio a un murales sede ostiense allora quello che ho detto prima che questo sta in lapponia dei pallone non gliene frega niente magari no magari ho sbagliato però io voglio di va bene la novità vabbè fa le cose nuove perché devi venne vuoi fare le cose particolari però cacchio cacchio c'è la roma c'ha oltre il giallo e rosso c'ha altri due colori che gli poi abbina anche tre che sono il bianco il blu e il nero ma il blu scuro che nella storia l'ha vestito gli poi mette pure il verde perché la roma c'ha avuto pure una maglia verde che oltretutto in alcune occasioni neanche mi è dispiaciuto alcune erano orribili una se non sbaglio l'anno l'ultimo anno di capello no il primo anno quello famoso dei cinque allenatori brandelli feller denneri eccetera bruno conti addirittura penso che forse pure franco senzi è sceso in panchina qua stagione la roma aveva di ad ora e fece questa maglia verde indossata da mito che doveva essere un grande giocatore invece se rivelò insomma uno dei tanti abbagli della roma nella sua storia comunque dicevo ci stanno mille colori che poi abbina stavolta si è andato proprio a pia il colore degli avversari no cittadini e poi di che verde acqua però insomma ricorda molto il celeste e logicamente sui social i tifosi hanno reagito malamente e le vadela qualcuno ci ha giocato ci ha messo il topo no il famoso topolino del derby dei mancini quindi c'è chi l'ha sdrammatizzato e chi invece si è arrabbiato veramente in maniera pesante io credo che è troppo stroppia in tutto nel senso quando tu vuoi per forza innovare a tutti i costi e rischi poi no rischi decade in queste cose ed è sempre più frequente non solo nella roma ma in molte società io mi ricordo il city vestito di rosso e nero che che praticamente sono i colori della maglia dello united poi lo united sappiamo che i tifosi in realtà vorrebbero il giallo e il verde se non sbaglio che sono i colori del della maglia storica del city quindi c'è una grossa anche lì i tifosi storici vorrebbero tornare alla tradizione ma il manchester ne frega niente ormai è rosso e nero quindi dicevo questo continuo cercare la novità e porta poi porta poi a questo porta poi a questo perché poi logicamente diciamo anche che magari è qualche avanzo di magazzino e che dice cosa che c'è questo c'è i colori d'aroma perché non lo lanciamo ci mettiamo il logo d'aroma e via il lupetto di grattone lupetto di grattone per carità bello ma nel cerchio sinceramente sulla maglia da gioco a me non piace la seconda maglia che sembra che gli hanno tirato un acqua cioè gli hanno tirato un secchio di vernice alla pesca perché c'è una secchiata di vernice è un disegno astratto pure lì ci arriverà una spiegazione che sarà non lo so un quadro di picasso ma noi che cazzo ci frega perdonateci ma che maglia è con quello sbratto sembra che un ragazzino ha vomitato per te addosso al padre ma io non lo so non lo so veramente ripeto molte volte fare le cose semplici è molto più figo allora tu l'anno scorso hai fatto partiamo dall'anno scorso ha fatto la maglietta la prima molto bella semplice semplice disegno adidas base molto bella che era quella più o meno che c'aveva anche l'italia bellissima bellissima come bellissima quella dell'italia dell'europeo che purtroppo è andato male ma era bellissima io l'ho acquistata bella un bell'azzurro della nazionale con le come si chiamano strisce adidas tricolore molto bella molto figa che ho scritto dietro l'italia che è molto vicina alla maglia dell'anno scorso al taglio dell'anno scorso della roma molto vicina in alcune cose cambiava però molto vicina ora tu decidi la prima addirittura sembra che sia bordeaux e oro bordeaux cioè voglio quasi granata e oro allora io l'oro lo puoi mette in una terza maglia ma che ma tu la prima maglia ma li fa di colori dalla squadra ma sembra che su questa abbiano ritrattato sia rossa e gialla cioè che i rendere che ci ha mostrato e quel sito specializzato insomma siano colori diversi da quelli che sono realtà ma lo spero lo spero perché mo la foto vera della prima maglia ancora non è uscita perché la seconda quella bianca questa bianca con questa sbrattata di te alla pesca e questa è uscita c'è stata nelle foto reale è una foto attaccata a una stampella dentro al negozio cioè non si può fare così perfetta con l'intelligenza artificiale ma manco con photoshop io un pochino me ne intendo è difficile fare una cosa così realistica quindi la maglia sarà quella e c'ha sto gratton non so l'upetto di gratton dentro un cerchio con dei trattini che seguono il cerchio molto strano a me personalmente non piace l'upetto mi piaceva ma da solo come l'ha sempre portato la roma e come è stato fatto l'anno scorso quest'anno è stato deciso di mette dentro un cerchio la terza maglia già mi fa meno schifo perché è un blu strano è un blu sembra un blu carta da zucchero scuro un blu opaco non so come descriverlo perché poi i colori ragazzi è un conto poi in foto un conto è dar vivo però è un blu molto particolare con inserti giallo e rossi devo dire la terza mi piace molto e ha l'acronimo asr come logo sempre a cerchio che è più o meno un richiamo alla terza maglia che ha questo gioco che si passava dal logo roma al logo asr vi ricordate no quel logo molto figo della terza da New Balance oltretutto ne abbiamo parlato qualche giorno fa a Roma ha usato cinque volte in questa stagione non di più cinque partite quindi diciamo la polemica tra virgolette è fondata perché se tu mi fai una seconda maglia che giallo e pesca l'anno scorso l'ha fatta bianca e nera e mai fatto vedere addirittura ripeto col Torino i pantaloncini rossi che i righe giallo e sopra la maglia nera che non c'entrava proprio niente non c'entrava niente a livello cromatico io quest'anno sono curioso pure di vedere Carsoncini e Carsettoni perché va bene la maglia ma voglio vedere Carsoncini cioè se tu devi riannare a Torino Roma con la bianca con la bianca perché se l'hai fatta a blu non puoi andare credo qua tenuta tutta blu a giocare contro il Torino perché è troppo simile se l'avessi fatta gialla verde arancione tutta arancione allora no arancione scusate sto di una stronzata se l'avessi fatta per dire tutta verde già ci puoi giocare contro il Torino con tutto quel completo ma se devi andare a Torino e ti devi rimettere i Carsoncini rossi e gialli sotto una maglietta che pesca fa schifo ma voi volete rende conto che fa schifo che è un pugno in un occhio ma poi i colori sociali ma li vogliamo mantenere ma cambiamo il disegno della maglietta ma perché ste sbrattate ste sverniciate e sti colori incomprensibili e le maglie dei colori sociali di altre squadre ma che cacchio sta diventando io ripeto io so favorevole al cambiare al progresso capisco il merchandising no le esigenze di vende perché pure quelli sono introiti l'Atidas questo fa fa capi d'abbigliamenti vende da una marea di sordi alle società sportive e vuole vende sempre di più è ovvio che non può fare una maglietta come era una volta che dura per tre anni che è simile ma anche negli anni 90 quando ci siamo avuti alla prima volta l'Atidas ogni anno era diversa la maglietta cambiava il colletto cambiava cosa però non c'era ancora in Italia questa cultura del merchandising invece in quegli anni già era attiva ad esempio negli Stati Uniti e in parte anche in Inghilterra no nel basket già vennevano l'ira del dio già c'erano i Jordan e c'erano le cose su Magic Johnson insomma già già erano belli avanti sul merchandising però poi dopo tutto questo eccesso ti porta a fare magliette che con la storia dei club non c'entrano un cacchio i club italiani ormai ci hanno quasi tutti i cent'anni a Roma eccola mancano tre anni fa cent'anni pure a Roma ma non si può trattare la storia del club così non si può trattare così con i colori mettiamo la pesca Arbicocca abbiamo visto il gelato Arcalippo a Roma era la Fanta l'Inter era la Sprite voi ricordate no quando hanno fatto la Nike che fece quelle magliette così tutte sfumate che a Roma sembrava la Fanta e l'Inter sembrava la Sprite erano vestite da lattine erano vestiti da lattine i giocatori che per chiarità erano fighe ma erano vestiti da lattine allora va bene la novità però ripeto variate i colori variate il disegno delle magliette ma non variate i colori poi attenzione i colori sociali lasciateli perché che tu gli fai a Roma una seconda maglietta bianca e nera ma come sai io gli fanno una seconda maglietta bianca con inserti giallorossi ma che cazzo c'entra che la Juve se incazzerebbero pure i tifosi dalla Juve poi io ho visto pure render dalla maglietta all'Inter io penso che sono avvenenati pure i tifosi dell'Inter perché proprio nell'anno delle due stelle tu mi metti il logo al centro con le due stelle oltretutto un colore oro che c'entra un cazzo che la maglietta e i righe dell'Inter sono incomprensibili come hanno disegnate lo scudetto messo sul petto che non si porta più da quando ha vinto maratona e il logo e Nike bianco queste no una volta io fanno giallo una volta una volta fucsia quindi io sinceramente condivido le polemiche soprattutto per statuta che io penso che alla fine non se vennerà o se se vennerà se vennerà veramente perché qualcuno c'è cucirà il topo per fare i meme sui social perché questo succederà perché quando la gente dice è inguardabile ne la voglio vedere non è da Roma non te sa la comprano quindi la cittadina si ha preso proprio una toppa e ha preso una toppa perché non se se devono consultare le società con i tifosi diceva guarda via a vedere via a vedere noi abbiamo questa idea che ne pensi quando non comincio a lavorare poi non ha ai tifosi che può piacere perché tu la roba che fai a Roma ma chi cazzo fa che sta a comprare di là di quello che sta a comprare in Australia oppure a New York a Times Square oppure dove pare a te a Roteo Drive a Los Angeles ma a Roma ma quando vieni qua la roba ma in Italia ma quando vieni il tifoso romanista di qualsiasi città d'Italia non se la comprerà mai con i colori della Lazio e quindi io sto pienamente d'accordo con tutti gli altri tifosi secondo me bisogna bisogna un attimo tornare con i piedi per terra e fa cose più più blande ripeto sono capisco le necessità economiche dei brand sia Roma che Adidas che devono vendere i capi però questo è proprio il motivo per cui tu ne vennerai di meno perché se mi fai tre magliette non ce ne piace una io saranno ma compro guarda forse quella d'allenamento è carina che un po' ricorda la Roma ma non mi piace sto rubetto nel cerchio è una top incredibile a mio modo di vedere quindi secondo me male male la linea d'abbigliamento sportivo della Roma fino adesso le indiscrezioni però aspetteremo l'ufficialità anche se ripeto quella bianca è semi ufficiale ora passiamo al calcio mercato allora i nomi nuovi di oggi sono due tersini sinistri uno è Sergi Cardona anche lui 25 anni come Sara che abbiamo analizzato ieri lui però è svincolato dalla Spalmas è in tersino anche lui De Gamba che potrebbe insomma fare al caso di De Rossi e quindi c'è stato un approccio della Roma per capire sono tre giorni che è svincolato anche lui c'è stato un approccio per capire se c'è l'opportunità quanto vuole logicamente quanto è l'investimento voi sapete che la differenza la fanno anche le commissioni agli agenti quindi la Roma ha preso contatti con l'entourage sembra che l'entourage sia stato contattato anche dalla Lazio e che anche la Lazio giustamente in maniera molto normale è interessata ai parametri zero è logico no perché non c'è la spesa del cartellino l'altro tersino sinistro invece è Sergi Gomez del City e qui la cosa logicamente se complica del City interessa anche piace anche Calvin Phillips che è un po' il ribelle della situazione lì al City non trova tanto spazio vorrebbe cambiare aria però insomma trattarsi sia col City che il suo entourage non credo che sia la portata della Roma però si è fatto un sondaggio per capire di cosa si parla quindi questi sono diciamo le novità di oggi e l'altra novità è che l'EFE praticamente purtroppo sopiamo io dico purtroppo perché secondo me è un acquisto oneroso che io spero che abbia ragione Ghisolfi non mi farà intendere perché io sono tifoso della Roma non è che voglio che viene l'EFE e gioca male perché così ho ragione io no però so dubbioso dannaspenne 18 milioni per un giocatore che ha fatto una stagione mediocre in Francia in Francia un campionato che a livello di performance è molto al di sotto della Serie A no lo possiamo dire senza senza insomma essere come dire attaccati da nessuno quindi non so convinto però se l'EFE viene qua e diventa il nuovo Zidane o il nuovo Pirlo o il nuovo De Rossi o il nuovo Veratti come si dice ma ma magari ma magari gli fanno gli fanno una bella statua a Ghisolfi le altre novità sono Spina se sapeva Spina Zola ha salutato Roma però sembra che il Napoli lo voglia ingaggiare e si sta tutelando stanno studiando una formula contrattuale che possa salvaguardare il Napoli dai continui infortuni del ragazzo e quindi sarà questione di giorni e Spina raggiungerà Antonio Conte sotto al Vesuio quindi Spina Zola va al Napoli l'altro ex della Roma che torna in Italia e secondo me purtroppo ci farà rimpiangere la sua partenza è Nicolo Zaniolo che ha detto sia l'Atalanta e quindi ripartirà da Bergamo con Gasperini attenzione a Nicolo Zaniolo con Gasperini perché potrebbe veramente rilanciare questo ragazzo ovviamente per noi romanisti sarebbe un peccato però a livello nazionale sarebbe fondamentale recuperare Zaniolo quello visto a Roma dopo il primo infortunio no quello straripante ma anche quello che ha fatto la tripletta Arboto cioè Zaniolo è un giocatore strepitoso e si è perso un posto ragazzo evidentemente anche per problemi personali se Gasperini non riesce a recuperare bene va a nazionale ovviamente sarà un grosso rimpianto per noi l'ultima l'ultima sul mercato riguarda Vito Scala che ormai è diciamo un po' il tutto fare a Tricoria no? è entrato tanti anni fa come preparatore atletico e poi diventato preparatore atletico personale di Totti sia alla Roma che nazionale Vito Scala ha scalato sempre ha scalato scusate il gioco di parole sempre più posizioni no? all'interno della Roma e non solo ha costruito molti rapporti nel mondo del calcio quindi conosce tutti sa parecchi aneddoti e storie dentro e fuori Tricoria quindi insomma si sta cercando di rinnovare il contratto di Vito Scala che è scaduto il 30 giugno aveva logicamente avevano ereditato i Friedkin un contratto importante stanno cercando anche con lui di ridimensionare un po' l'ingaggio sapete insomma no? la politica che ha messo in atto la Soloco e questa qui è quella di cercare di minimizzare i costi e massimizzare la resa che a livello imprenditoriale mi sembra più che giusto perché quando comunque il bilancio è in continua perdita tu devi annacchiappare dappertutto dove è possibile devi tagliare i rami secchi devi cercare di fare cose sostenibili quindi sembra che insomma la fumata bianca sia vicina io lo spero perché Vito Scala insomma oltre ad essere romanista che non mi pare una cosa poco importante desti tempi conosce bene l'ambiente può essere utile soprattutto ora che c'è un altro romanista alla guida della squadra quindi spero che Vito e insomma i suoi uomini perché negli anni 30 anni alla Roma si è creato anche uno staff attorno che gli dà una mano spero che possano insomma rinnovare tutti rimanere alla Roma e dare una mano a questa società risalire e tornare a farci sognare perché questa logicamente è il pensiero va bene ragazzi io vi saluto per oggi è tutto questo che volevo dire ditemi nei commenti cosa ne pensate soprattutto del discorso merchandising io ho detto un po' un po' la mia quello che è il mio pensiero secondo me bisogna bisogna d'asse una regolata nel senso va bene la novità ma non esagerare sti color pesca fluo queste magliette a mode lattina hanno un po' stufato ogni tanto esagerano l'Atidas era partita bene forse solo la seconda maglia aveva toppato oltretutto ripeto la terza alla Roma non la mette quasi mai perché non è che ci stanno l'Ajax e l'Arsenal in serie A in Europa ne incrociamo spesso quindi la nera la blu le vedremo poco secondo me anche la terza se tu la vuoi vendere la devi far vedere più devi fare un colore diverso da questi scuri perché in Italia è improbabile ma è più probabile che la Roma giochi con la maglia bianca ripeto quindi però ripeto sono scelte del brand ma è anche dovere di noi tifosi di ragazzi a non ci piace quindi che l'Atidas faccia tesoro di queste polemiche per capire il prossimo anno visto che il contratto io poi non mi ricordo se è triennale o quinquennale io credo che già il prossimo sia l'ultimo anno e poi si vedrà se si rinnova faccia tesoro di queste polemiche per cercare di fare innanzitutto contenti i tifosi italiani di Roma e italiani della Roma che sono i principali acquirenti e di fare cose sensate ecco non si può fare che a Lazio gioca la maglia da Roma e a Roma c'è la verpa da Lazio non si può fare ragazzi è ovvio no che poi i tifosi tese magnano quindi ditemi cosa ne pensate anche voi un bacio buon mercoledì oggi a Roma forse piove rinfresca per adesso c'è una fa tremenda essere schiatta però vabbè estate ce sta a domani ragazzi ciao